Questo è il nuovo Osprey Dumburst 36 litri, lo zaino da trekking impermeabile di casa Osprey. Adesso insieme ne vediamo pregi e difetti all'interno dell'accensione completa. Iniziamo come al solito dallo schienale di questo Dumburst, perché qui troviamo la tecnologia Airspeed di Osprey. Uno schienale tensionato, che non va naturalmente a diretto contatto con la schiena. Uno schienale che da punto di vista la traspirabilità è nella norma. Non è sicuramente il suo punto di forza, però non è anche pessima. Ma diciamo proprio nella fascia media di quella che può essere la traspirabilità degli zaini. Una cosa molto apprezzata però è che lo zaino è regolabile. È regolabile su diverse altezze, inoltre è possibile prenderlo in due taglie. Quindi diciamo che da punto di vista meno dell'altezza è regolabile in base alla propria altezza della schiena. È sicuramente un punto a favore, così da poter avere uno zaino completamente personalizzabile. Passando invece alla fascia lombare, questa mi è piaciuta molto perché vi assicuro è una fascia lombare che lavora davvero bene. Innanzitutto troviamo due tasche, una a destra e una a sinistra, belle capienti, ci sta davvero tanto materiale. Ottimo il fatto che lo troviamo sia a destra che a sinistra e poi nella parte anteriore è chiusa una classica clip. Una clip bella grossa che comunque anche a pieno carico non si è andata ad aprire. Una fascia lombare che ci permette di poter portare anche una dozzina di chili all'interno di questo zaino. Con 12 chili la fascia lombare lavora veramente bene, non si sente la pressione sugli spallacci e soprattutto anche che a pieno carico lo zaino è abbastanza stabile. Arrivando alla sezione degli spallacci anche loro sono abbastanza morbidi, fatti bene. Soprattutto mi piace la sezione che è abbastanza media, non è né troppo grossa né troppo sottile, è proprio giusta per evitare che tagli le spalle. Devo dire che la soluzione degli spallacci sicuramente è ottima. Sugli spallacci naturalmente troviamo la chiusura pettorale per scaricare un po' di peso sul petto e poi sullo spallaccio dei cittadini troviamo anche la classica soluzione di osprei per andare a riporre i bastoncini nella parte anteriore. Molto semplice ma devo dire che se si affrontano ai tratti tecnici torna sempre molto molto utile. Arrivando invece alla parte posteriore dello zaino iniziamo dai suoi due lati che vi pronuncio su una simmetrici quindi ne vediamo solamente uno. Sulla parte laterale nella parte inferiore troviamo una grossa tasca rete in cui puoi andare a inserire la borraccia. La borraccia la possiamo inserire anche da soli e recuperarla da soli perché è tagliata lateralmente quindi riusciamo a recuperarla in autonomia ma il taglio c'è anche nella parte superiore quindi volendo possiamo inserire per esempio dei bastoncini che escono nella parte superiore perché c'è la possibilità di farli uscire. Nella parte invece più alta laterale troviamo una classica fettuccia da cui possiamo andare a stringere per poter comprimere lo zaino o comunque poter portare qualche oggetto particolarmente lungo. Ecco che come vi dicevo i due lati sono simmetrici quindi possiamo portare anche due borracce, diversi oggetti nelle parti laterali ed è sicuramente una soluzione tanto semplice quanto efficace. Arrivando a parlare della struttura in sé dello zaino possiamo dire che lo zaino lo dividiamo in tre grossi scompartimenti. Il primo, quello più vicino alla schiena, è uno scompartimento abbastanza classico. È uno scompartimento non impermeabile in questo caso dove noi possiamo andare a inserire all'interno tutti gli oggetti che vogliamo. C'è la possibilità di mettere anche una classica vescica con la possibilità di far uscire la prunda a sua parte anteriore quindi diciamo da questo punto di vista uno zaino molto classico. L'apertura di questa tasca è fatta a modo di apertura da zaino da scuola, diciamo. Non è un'apertura a cappuccio come altri zaino da trekking. La parte impermeabile di questo downburst è la tasca centrale. Infatti troviamo una tasca veramente molto grossa dove ci sono dentro tantissimi oggetti in cui troviamo il tessuto che è laminato. Troviamo un tessuto laminato e anche con le termosaldature in modo tale proprio da non far entrare l'acqua e la chiusura superiore è fatta sia da una cerniera IKK quindi impermeabile all'acqua ma soprattutto anche da una chiusura roll top per evitare ancora di più che entri dell'acqua. Devo dire che questa tasca è veramente grossa, ci sta dentro tantissimi oggetti e soprattutto ha anche una piccola taschina nella parte superiore in rete che diciamo dovrebbe sostituire un po' la classica tasca sul cappuccio presente in altri zaini. Diciamo che averla all'interno di questa tasca c'è un pro e un contro. Il pro è che anche quello che mettiamo all'interno di questa tasca resta una sacca impermeabile quindi non si bagna. Il contro è che comunque se ci mettiamo qualche oggetto piccolino come può essere una crema solare tutte le volte che vogliamo recuperare qualcosa da lì dentro dobbiamo prendere lo zaino aprire la tasca superiore e recuperarla. Non è sicuramente una cosa semplice. Da questo punto di vista queste due tasche però hanno diciamo un po' un difetto ovvero che entrambi utilizzano lo stesso spazio nel senso che se riempiamo di più la tasca non impermeabile quella impermeabile avrà molto meno spazio e viceversa. Quindi diciamo che sono due tasche di cui dovremo noi andare a decidere quanto mettere una parte e quanto mettere nell'altra perché riempirle tanto entrambe non è possibile. Infine l'ultima tasca nella parte esterna è questa grossa tasca sulla parte posteriore. una tasca esterna che possiamo mettere dentro un guscio, un secondo strato, qualche oggetto è abbastanza capiente dobbiamo dire che gli oggetti all'interno ce ne stanno un bel po' e poi ha le cinghie laterali per poter andare a stringerla in modo tale che non ne esca nulla. Infine sulla parte posteriore troviamo anche i classici laccetti per poter portare dei bastoncini da trekking o una piccozza. Arrivando a parlare di materiali questo Osprey Dunburst è fatto con dei materiali veramente durevoli. Parliamo di un nylon 210D per tutta la parte superiore e di un 420D per la parte inferiore. È uno zaino col quale vi assicuro potrete strusciare contro tutte le rocce che vorrete e non avrete problemi di usura. Questi nylon hanno dei denari veramente alti che sicuramente lo rendono un pochino pesante perché comunque parliamo di uno zaino da 36 litri che pesa un chilo e mezzo ma dal punto di vista della durabilità fan sì che come zaino potrete andare avanti e utilizzarlo davvero per tantissimi anni. Arriviamo dunque alle conclusioni per questo Dunburst iniziando dal prezzo perché online lo si trova attorno a un prezzo di 310-320€. È un prezzo sicuramente alto per uno zaino da trekking ma va capito anche per chi è pensato questo zaino. Questo zaino è pensato per quelle persone che magari fanno dei trekking veramente lunghi magari di mesi ed hanno bisogno di uno zaino che li permetta di poter affrontare qualsiasi tipo di condizione. Vi faccio un esempio che secondo me aiuta molto a capire. Mettete il caso che dovete andare a fare magari un cammino di Santiago o una Palacchian Trail e lo prenotate con un anno di anticipo. Dato che sono dei trekking molto lunghi probabilmente andreste a farlo anche se mettono a brutto tempo e con uno zaino del genere non avreste problemi se un giorno piove, un giorno c'è il sole, un giorno avete bisogno di asciugare della roba in una tasca impermeabile. Diciamo che questo zaino è prevalente pensato per chi veramente fa cammini molto lunghi, ha bisogno di un zaino molto durevole e soprattutto ha un'incognita meteo che non è prevedibile. Allora lì diciamo che questo zaino veramente può avere un gran senso. Vi ho detto ciao ragazzi, nella speranza sia stato esauramente esaurito anche per questo video. Vi ringrazio l'ho guardato e noi ci vediamo al prossimo. Ciao!